Gabriele, metti la testa che ti devo sopportare! Non vorrei continuare la scena, Pablo! Eh, ciò, gran! Vai, vai! Tu? Sì! Non è che adesso la fai tutta! Senza numero! Le prime assolute! E Ghisellini! Accelili o no? Vai, cazzo! No, dopo, dopo! Lo so! No, dopo, dopo! No, dopo, dopo! No, dopo! Quinta la curva siniestra! No! 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 Sono partiti veloci! Poi questo strappo qua comincia a danneggiare i quadri! ma alla fine vediamo di portarla a fondo! Questa cosa qua! Bravo! E Anna che è? Anna è dietro! Sono qui! Ecco qui! E qui! Chi sei? Grande! Allora! Ghisselini come stai bene bene molto bene sei contento che che non sono in gara abbastanza contento ti dirò preferisco virginia veramente lo conosciamo ciao ciao vai vai bravo allora come va primo chilometro come sono le sensazioni e immagino ecco Ghisseli sempre vicino alle donne io non farai tuta a questo punto ah io no io già torno torno bravo grazie